l'acqua ferma dei canali di venezia luccicante nella luce del pieno giorno è l'immagine più potente della contraddizione in cui il covid ha immerso il genere umano mai forse negli ultimi ottocento anni quell'acqua è stata così ferma la stasi è morte siamo abituati a pensare di sicuro questa stasi è la metafora perfetta della morte temporanea della morte apparente del turismo globale la città simbolo dell'over turismo senza le titaniche navi da crociera senza le gondole private dei suoi invasori quotidiani è spogliata di ogni ricchezza le resta poco o nulla l'acqua è mota e la rappresentazione violenta del denaro volatilizzato e naturalmente è bellissima la sua nudità surreale produce un desiderio feroce di essere lì ora di trovarci in mezzo a quei canali con un'imbarcazione qualsiasi di essere gli unici a fendere contro la legge quella superficie insolitamente liscia si diffonde un sentimento di invidia nei confronti dei privilegiati testimoni di questo unicum nella storia di Venezia ed è un sentimento che paradossalmente scaturisce dall'istinto più primitivo del turista quello dell'esploratore di paesaggi sconosciuti il vuoto è un evento formidabile la stasi è la cosa più vitale che la città abbia visto da parecchi decenni a questa parte è la visione di una possibilità, di una ripartenza there is an alternative intervallo il covid è stato il primo evento capace di frenare drasticamente il traffico aereo contemporaneamente in tutto il mondo una bomba rispetto alla crisi petrolifera del 1973 quando gli spostamenti internazionali ammontavano a poco più di 160 milioni all'anno contro gli 1,4 miliardi del 2019 ma anche rispetto allo shock delle Twin Towers e della crisi finanziaria del 2008 a marzo 2020 sono stati cancellati 4,5 milioni di voli la perdita rispetto allo stesso periodo del 2019 nel settore del trasporto aereo è stata stimata al 55% corrispondente a 314 miliardi di dollari ad aprile la variazione media nell'area europea è stata del 91% ma più dei dati sono ancora una volta le immagini a offrire la miglior rappresentazione dell'effetto covid un ipotetico video di animazione che mette a confronto i tracciamenti dei voli a un anno di distanza su due finestre parallele dove da un lato 2019 migliaia di pallini luminosi schizzano frenetici da una parte all'altra del mondo come bollicine di Francia corta dall'altro 2020 vagano timidamente sparuti corpuscoli più eloquente ancora una mappa delle centinaia di petroliere bloccate per settimane a largo delle coste oceaniche più eloquente ancora una mappa delle centinaia di petroliere bloccate per settimane a largo delle coste oceaniche impossibilitate a scaricare combustibile perché non se ne è mai consumato così poco come si evince dallo stesso video che zoomando sulla Cina mostra una sostanziosa ripresa di intensità entropica dei voli già da metà aprile non siamo probabilmente di fronte a uno scenario apocalittico ma un intervallo una pausa di silenzio nel rumore che può risultare produttiva o essere il preludio di una conferma se non di un aggravamento dell'ordine o del disordine precedente sappiamo che con la grande crisi del 2008 è andata male a dispetto dei movimenti e di una nuova più diffusa percezione delle diseguaglianze il sistema di concentrazione della ricchezza mondiale nelle mani di pochi è riuscito rafforzato ma il sogno della tabula rasa torna insistente ad ogni nuova crisi e questa volta in una forma molto più tangibile delle altre il virus sarà anche invisibile si potrà anche litigare sulla catena di eventi che hanno originato la pandemia attribuendo la sua diffusione a complotti geopolitici o a scenari da climate change ma la sua conseguenza più immediata è il congelamento della globalizzazione dell'ipercinesi contemporanea niente a che vedere con l'astrazione dei subprime e le oscure catene di eventi che ha generato finché si resta immersi nei flussi questi sembrano inevitabili, ineluttabili e non si ha neanche il tempo per immaginare come potrebbero essere ridisegnati se il movimento continuo ottumbe la capacità critica la stasi guata improvvisa pone problemi che è difficile a girare contro l'accelerazione il primo è, come dice Harvey in un articolo su Jacobin ottimisticamente intitolato La fine del neoliberismo uno degli svantaggi della globalizzazione è che è impossibile fermare la rapida diffusione internazionale di nuove malattie viviamo in un mondo fortemente connesso in cui quasi tutti viaggiano le reti umane per il contagio potenziale sono vaste e aperte la spagnola aveva impiegato due anni a diffondersi il covid due settimane ripete come un mantra la virologa Ilaria Capua nuovi virus usciti dalle foreste devastate dall'uomo insorgeranno in continuazione a boicottare il nostro sistema il principale fattore di crisi quello che rende ingovernabile la gestione dell'emergenza è l'eccesso di moto in sé il cortocircuito tra distruzione delle persone e distruzione degli ecosistemi naturali produce crisi e blocchi ravvicinati che ogni volta vengono superati concentrando sempre più potere e ricchezza facendo arretrare le conquiste sociali di qualche decennio e precipitando nel baratro milioni di persone ma ogni giro l'equilibrio diventa più fragile forse gli irriducibili padroni del mondo possono continuare ad asserragliarsi ancora a lungo nei propri paradisi fiscali e naturali ma il pensiero critico è stanato non può più rifugiarsi nella prospettiva piratesca di cavalcare la crescita per rovesciarne gli esiti non ha più margine per giustificare il paradigma dell'accelerazione in funzione della libertà di movimento la dialettica sfiata e pur cause la globalizzazione e il turismo la critica no global di inizio millennio che univa lotte anticapitaliste e ambientaliste fu archiviata in parte a causa del suo spirito comunitarista che non si adattava molto alle reti ultra flessibili dei movimenti urbani e in parte perché il pensiero sulle migrazioni reso nel frattempo sempre più urgente dall'espansione del fenomeno e delle sue conseguenze tragiche ha messo in primo piano il diritto alla libertà di movimento delle persone spostando il focus della lotta dalla difesa dei territori all'abbattimento delle frontiere la resistenza dei contadini indiani contro la Monsanto è apparsa tutto a un tratto meno cruciale del loro diritto di fuga dal paese martoriato dagli effetti della globalizzazione la crisi del 2008 ha spostato poi l'attenzione sulla critica alla finanziarizzazione dell'economia alla liberazione della circolazione di merci e capitali contrapposta al controllo selettivo del movimento di persone libertà per i cittadini dei paesi ricchi vessazione nei confronti dei cittadini di paesi poveri si è consolidata da allora l'idea che esiste una globalizzazione buona che facilita lo spostamento di popoli e individui lo scambio culturale l'internazionalismo politico e una cattiva quella di matrice neoliberista un'idea che si è cristallizzata fino a diventare un dogma incontestabile quando hanno cominciato a diffondersi con sempre maggior successo i populismi di destra da lì in poi ogni critica rivolta alla crescita esponenziale della mobilità viene liquidata nel migliore dei casi come una manifestazione del frusto pensiero della decrescita felice nel peggiore come sovranismo e così grazie all'acculturazione di scarti e tabù è stato finora quasi impossibile avanzare un dubbio sulla legittimità politica e la sostenibilità sociale e ambientale di questa nostra esteria cinetica senza passare per reazionali e fustigatori di piaceri altrui in una recente intervista Nonchonsky spiega che non c'è niente di sbagliato nella globalizzazione in sé è bello per esempio fare un viaggio in Spagna identificando Tukur la globalizzazione con un positivo processo di democratizzazione dell'accesso al turismo un piacere legittimo e incontestabile Chomsky passa poi a scaricare come da manuale ogni responsabilità delle strutture del mondo sull'altra globalizzazione quella cattiva plasmata dalle forze economiche del capitalismo estrattivo il problema è che questa dicotomia è del tutto astratta il turismo è la più feroce delle industrie neoliberiste equivale, secondo le stime dell'organizzazione mondiale del turismo al 10% del PIL globale e occupa il 10% dei lavoratori mondiali e non solo nel calcolo dei volumi d'affari del turismo globale non rientrano solo gli spostamenti legati al tempo libero ma tutti gli spostamenti viaggi di lavoro, di studio, di svago per ragioni di salute, pellegrinaggi, visite ai parenti persino migrazioni tutto conta ogni arrivo nazionale e internazionale ogni notte in albergo o in bed and breakfast ogni ingresso al museo va inteso materialisticamente come turismo turistificazione e globalizzazione non sono due processi paralleli sono quasi interamente sovrapponibili ideologia e industria del movimento il manager che fa avanti e indietro da Wuhan e il ventenne che gira per il festival tecno da questo punto di vista hanno la stessa funzione le città possono competere per cose apparentemente diverse come diventare sede di un'agenzia governativa o aggiudicarsi un grande evento ma gli obiettivi appartengono alla stessa costellazione generare mobilità attrarre persone e fondi pubblici e privati effetti del monopolio turistico quando si dice che il turismo come un tetro remida uccide le città e i territori che investe con maggior successo il pensiero corre subito a città ridotte a parchi a tema come Venezia o Firenze oppure a quartieri di grandi metropoli snaturati dai turisti come il barrio gotico a Barcellona o l'alfama a Lisbona dalle coste intasate della Sardegna o della Puglia a luoghi devastati dalla speculazione edilizia come Ischia ai finissimi restauri di Matera o San Geminiano i luoghi classici dell'overturism dove l'equilibrio tra popolazione residente e turisti è saltato del tutto sono località svuotate dei propri abitanti espulsi dall'innalzamento dei prezzi immobiliari che si trasformano in termità ai pieni di alberghi stanze, ristoranti e bar turistici rivenditori di gadget superkitch e tristi rappresentanti del folklore locale sono gli archetipi del turismo di massa quello unanimemente disprezzato che persino l'unvto tratta come un problema da risolvere sono luoghi in cui il turismo viene associato al degrado e spesso fatto oggetto di ordinanze aggressive e vessatorie da quelle stesse autorità locali che lo alimentano senza soluzione di continuità i divieti di indossare zoccoli o canottiere di mangiare panini in piazza di sedersi sulle scalinate il turista cafone del resto è un bersaglio facile perché riconoscibile attaccabile da tutti i lati esteticamente sgradevole in ultima analisi nemico del decoro come racconta Wolfgang Bukowski in La buona educazione degli oppressi questi luoghi sono il risultato della monocultura turistica nella più totale assenza di visione città e territori hanno puntato a uno sviluppo economico che in cambio di qualche campagna di marketing sugli elementi caratteristici del proprio ambiente e di un minimo di organizzazione logistica assicura un flusso di introiti più o meno abbondanti tramite le tasse di soggiorno e garantisce lo sviluppo di un determinato indotto un modello economico che oltre al degrado estetico produce disuguaglianza precarietà e privatizzazione degli spazi più pregiati tende al monopolio e soprattutto è straordinariamente fragile se un minimo scarto nella reputation di un paese o l'apertura di qualche rotta alternativa low cost sono eventi sufficienti a colpire duramente le economie drogate da over-curism i danni inflitti al bilancio veneziano dagli stravolgimenti climatici dell'autunno 2019 e dalla pandemia covid sono incalcolabili e meriterebbero una grande cronaca esemplare prima che la scena si richiuda sulla gigantesca falla e tutto possa ritornare come prima ma peggio secondo gli scenari ENIT per il solo 2020 le perdite sono stimate in 69 miliardi di euro sull'intero territorio italiano con una particolare concentrazione a Venezia e Firenze è altamente probabile che in un futuro non troppo lontano queste città potranno essere le prime a risollevarsi perché saranno perennemente in cima ai desideri dei turisti quelli culturali e quelli in gita e perché tra le mete turistiche italiane sono too big to file e avranno accesso privilegiato agli aiuti ma se per alcuni queste circostanze rappresentano la salvezza per altri suonano come una condanna definitiva il turismo sostenibile non esiste e comunque non è un'opzione ma guardare solo agli effetti negativi e ai rischi di certi overturism è fuorviante e consolatorio perché induce a pensare che il problema sia circoscritto e che possa essere affrontato semplicemente con una corretta gestione dei flussi è la tesi per esempio dell'untvo che candidamente tratta la questione evitando di mettere in discussione il paradigma della crescita continua del settore le soluzioni che emergono dai convegni e dalle ricerche sul turismo sostenibile poggiano invariabilmente sull'organizzazione di un virtuosissimo management del territorio che dovrebbe essere in grado di scaglionare uniformemente nel tempo gli arrivi e di rottare i turisti delle mete classiche verso itinerari secondari densi di eccellenze enogastronomiche e artigiane ammesso che polacchi o cinesi si lasciano convincere a rinunciare alla venere di Botticelli per essere scarrozzati sull'appennino tosco-emiliano questa idea di sostenibilità assomiglia più a un piano di mercificazione progressiva del territorio intero che ha un progetto di equilibrio un'altra ipotesi di gestione dei flussi meno politically correct ma ben più diffusa tra la gente comune gli operatori del settore i politici e il sistema mediatico è fondata su una pura e semplice distinzione di classe incentivare il turismo ricco colto e rispettoso dell'ambiente e respingere quello straccione sì alle camicie in jersey riciclato le canotte a casa loro archiviate come meritano queste idee è invece di cruciale importanza osservare la situazione delle città e dei territori che ancora conservano un'economia mista non totalmente dominata dal turismo perché è da quei luoghi dal destino più aperto che può partire un ripensamento radicale delle politiche urbane e territoriali a partire da città come Barcellona Amsterdam Berlino Napoli Roma New York San Francisco Parigi che pur essendo al centro di flussi turistici immensi sono tuttavia densamente abitate e hanno per prime visto nascere movimenti di resistenza come per esempio SET rete di città del sud Europa che si oppongono alla turistificazione tutte queste città sono state investite da più cicli di gentrificazione e hanno subito alterazioni fortissime del mercato immobiliare a causa di Airbnb e delle altre piattaforme per gli affitti brevi i loro abitanti diffidano ormai di ogni piccola modifica dello spazio pubblico di ogni intervento di abbellimento e manutenzione di ogni nuovo centro culturale di ogni imprezzogimento del tessuto urbano proposto dai loro governi perché hanno imparato sulla propria pelle che non solo quei progetti non sono rivolti a loro ma che non fanno altro che accelerare proprio la loro espulsione dai quartieri che abitano e hanno intrapreso battaglie a volte vittoriose come quelle per l'imposizione di vincoli agli affitti su Airbnb e quella epica che è riuscita a impedire l'insediamento di un headquarter Amazon nel Queens di New York la pianificazione pigra battaglie come queste purtroppo in Italia corrono ancora spesso il rischio di essere classificate come conservatrici nimbi esse mostrano invece una comprensione profonda della natura delle politiche urbane dettate dall'ideologia del turismo se l'unico scopo è attrarre viaggiatori in cerca di esperienze studenti e creativi manager in trasferta malati e parenti di malati lo spazio urbano e i servizi vengono rimodellati pensando ai potenziali clienti non al benessere dei cittadini a dominare è il profitto non la pubblica utilità parchi piazze strade spazi pubblici distretti dello shopping e del food acquistano un'aria cool e green mentre clochard migranti presenze poco rassicuranti e segni di indigenza devono sparire dalla loro vista viene data priorità alle linee di bus e metropolitana che collegano l'aeroporto al centro e non ai collegamenti con le periferie i soldi vengono allocati per tirare a lucido in monumenti e non per le case popolari e le scuole si creano squadre per la comunicazione e si taglia al personale degli uffici pubblici si costruiscono edifici iconici e case di lusso usai e palazzi affittano sale per feste private manifatture magazzini luoghi di produzione continuano a chiudere o ad allontanarsi dalla città e le strutture diventano invariabilmente location per eventi temporanei stadi e università non hanno più lo scopo democratico di formare o divertire i cittadini ma diventano poli di eccellenza o lusso per platee selezionate e internazionali la macchina degli eventi assorbe i fondi destinati alla cultura sgretolandone le istituzioni persino gli ospedali come ben si è visto nella lombardia della crisi covid più che a curare pare servono ad alimentare miti di eccellenza a sviluppare progetti immobiliari o a erogare a pagamento prestazioni di screening a tutto danno per chi non se le può permettere samuel stein uno dei più acuti studiosi della città contemporanea autore di capital city definisce icasticamente pigro questo modello di sviluppo progettare un futuro equo significa contrastare gli interessi dei potenti e ridistribuire le risorse togliendole a coloro che hanno beneficato del sistema per generazioni il perseguimento di un modello di crescita economica guidata dal turismo è al contrario il percorso che offre minore resistenza e permette ai potenti di mantenere i propri privilegi infatti la pianificazione turistica tende a rafforzare proprio queste disuguaglianze ma che cosa succede a queste città in bilico appesantite dalla conversione turistica ma ancora parzialmente produttive se i flussi in entrata o in uscita si fermano quali settori entrano in sofferenza città come Milano Roma Londra Madrid Parigi Berlino Barcellona non si sono desertificate molte attività produttive non sono state bloccate o sospese neanche durante il lockdown sono stati spazzati via agli eventi e questo ha avuto un impatto terribile sulla massa di lavoratori precari decontrattualizzati a volte nero che si sono trovati da un giorno all'altro senza un soldo e sulla gloriosa filiera degli allestitori ma ha anche rivelato a chi occhi per vedere che il settore dell'arte e dell'editoria possono fare a meno senza rimpianti del 90% dei festival delle fiere e degli incontri che non hanno come vero scopo la promozione della cultura ma dell'immagine cool della città che li ospita moltissime voci si sono levate nel mondo della cultura per sollecitare una riconversione del sistema sul piano qualitativo si invoca un ritorno alla gestione pubblica della cultura un freno all'assalto dei privati un allontanamento dai metodi neoliberisti di valorizzazione dei siti culturali fondati come sempre sui numeri costi quel che costi e dalla retorica del patrimonio culturale come petrolio da sfruttare in chiave turistica una regolamentazione infine ma non da ultimo del mondo del lavoro di tutto il mondo del lavoro chi soffre molto invece è ovviamente il settore dello spettacolo cinema teatri musica dal vivo che si sta interrogando su come trasformare temporaneamente la fruizione senza aumentare i prezzi soffrono naturalmente gli alberghi e sono molto colpiti i ristoranti e i bar anche se parecchi hanno retto meglio di altri con il delivery e hanno davanti mesi in cui potranno occupare grandi spazi all'aperto a basso costo a seconda delle liberalità delle amministrazioni locali ma è sul fronte dell'abitare e del mercato immobiliare che si aprono gli scenari più interessanti oltre alle crisi di inquilini e proprietari in difficoltà l'assenza di turisti rimette necessariamente sul mercato dell'affitto almeno una quota consistente di appartamenti destinati ad affitti brevi in città non del tutto turistiche dove la domanda è sempre viva questo si traduce in un'opportunità anche politica di calmerare i prezzi del mercato e di ridimensionare l'ingerenza delle piattaforme negli equilibri abitativi una situazione analoga si osserva anche dentro al grande mercato temporaneo delle location magazzini showroom ex garage palazzi d'epoca si ritrovano improvvisamente a languire insieme alle altre migliaia di spazi vuoti di cui abbondano le città in un momento storico che ha fame di spazi ampi per scuole uffici pubblici ristoranti ambulatori per attività sportive potranno le location riconvertirsi in spazi per la collettività sono interrogativi che aprono una grande sfida politica possiamo spezzare la dipendenza da una domanda esterna volubile e precaria e riorganizzare i territori gli spazi i servizi in funzione degli abitanti si può investire su un ritorno alla produzione si possono ripensare i progetti urbani che rispondono a esigenze di pura immagine o di attrazione di capitali che non atterrano mai veramente sui cittadini basta case di lusso e stadi per VIP centri commerciali e uffici monumentali si può scegliere di non cedere alla tentazione del ritorno all'auto e di investire sul trasporto pubblico anche convertendo temporaneamente i bus turistici in mezzi di linea si può scegliere di non puntare sulle linee low cost si possono assumere medici e infermieri per ristabilire un servizio sanitario pubblico diffuso sul territorio insegnanti per coprire le esigenze di tutti i bambini e studiosi archeologi storici dell'arte restauratori per tutelare il patrimonio culturale si possono ricondurre gli atenei alla loro funzione originaria elaborare e trasmettere saperi distogliendoli dal ruolo di attori sul mercato del real estate cittadino si può rimettere al centro la questione della casa riprendendo in mano il patrimonio di edilizia pubblica semiabbandonata e inducendo i proprietari degli edifici vuoti a riempirli si può avviare un gigantesco piano di manutenzione di spazi ed edifici pubblici si possono revocare le concessioni sulle spiagge sulle biglietterie dei musei sulla gestione dei servizi infine si può anche ripudiare la rincorsa ai grandi eventi e lasciare estinguere una buona percentuale di quelli minori oppure si può continuare a privatizzare quel che resta della società in nome del feticio del dinamismo almeno fino alla prossima crisi che come tutte le precedenti non sarà tale per chiunque ma opportunità per i più ricchi ulteriore sprofondamento per i più poveri chissà se almeno stavolta anche il ceto medio posto che esista ancora qualcosa del genere se ne accorgerà o se continuerà a riporre il proprio declinante benessere nelle mani di chi ha manifestato in ogni modo l'intenzione di sottrarglielo subdolamente come ha fatto finora o se necessario anche con la forza una volta si diceva che la Cina è vicina oggi a parte il fatto che è molto più vicina di allora sarebbe forse il caso di iniziare a pensare che anche il Brasile è meno lontano di quanto sembri che è stato iniziare a pensare